Ciao ragazzacci, io sono M325 e oggi siamo qui su PC Building Simulator. Allora, facciamo questo qui, che peraltro si chiama GOV, quindi è del governo, non so, lavora per il governo. Questo qui che problema c'ha? C'ha un problema che vuole 4GB di RAM e devo assolutamente prenderli subiti. Allora, aspetta qui, fammi rimuovere il tuo pezzettino che voglio vedere quanta RAM c'ha installata. Perché così faccio un acquisto unico. Quanta RAM c'ha installata? Tu c'hai installata 2GB di Shein, Shein Titan. Ok, Shein Titan, adesso la compriamo subito. Intanto vado a prendere l'altro PC, che è quello che, questo qui, così faccio due acquisti con... Ammazza, c'ha un virus in quel computer, mi sa. Faccio due acquisti, questo qui, fammi vedere, così con un colpo solo faccio tutto quello che mi serve. Intanto smonto qui, ok, fammi vedere, Shein Titan, Shein Tian si chiama, non Titan, scusatemi. Memory, prendiamo per prezzo, Shein Titan 2, ok. Mi viene a costare 25, questa qui mi costa 20, vabbè, mettiamogli uguali giusto per. Quindi qua ci siamo. Andiamo a vedere questo qui quanta capacità c'ha. Upgrade to 4GB, aspetta, io però devo capire quanto è questo qui. Un tera, un tera e mezzo, un tera e mezzo mi mancano. Un tera e mezzo, quanto mi manca? Io peraltro devo comprare un tera e mezzo per arrivare, quindi 6,5, 6,5. Vediamo qui quello che c'è di hard disk. A me gli hard disk in questo momento mi servono, ok, non li vedo in storage, ok. Che caspita ho scritto qua, ho scritto, guardate che cosa ho scritto, non lo so cosa ne ho scritto. Allora li mettiamo per prezzo, me ne serve qualcuno di bello grosso. 60GB, 2 tera, 2 tera, o prendo 4 tera, 4 e 3, 7, 1, 8. Io farei 4, 3, 7, 1, 8, piuttosto che fare 4, 4, 6. E quello da 500 quanto costa? 50, 50, 50, 70, 50, 70, 120, 150, 250. Se invece faccio 4 e questo qui mi viene a costare di meno ragazzi, mi viene a costare 2,20. Allora compriamo questi, ok, facciamo l'ordine, scegliamo next day, così paghiamo 30 dollari. Quindi aspetta, prima di fare questo, voglio vedere, questo qui che cosa è che voleva? Questo qui mi sa che devo lavorarmelo un po' di più, perché sì, questo qui me lo devo lavorare un po' di più. Facciamo quest'ordine, andiamo subito, buy now, abbiamo speso un sacco di soldi, lasciamo tutto acceso, chi se ne frega, andiamo a dormire. Facciamo arrivare perché mi servono quelli là, mi servono, mi servono, mi servono i cosi, mi servono la consegna, quindi end day. Ok, perfetto, è arrivato tutto quello che doveva arrivare, andiamo a mettergli la ramma 1. Quindi la ramma 1 subito e io lo consegniamo. Quindi vuoi la ram? Io ho la ram. Eh, basta chiedere. La vado a mettere, se questo è sul rosso, la vado a mettere sul rosso, però per metterla sul rosso devo aprire questo e metti la ram. Ok, quindi è già montata, devo lanciare anche 3DMark. Ok, quindi lanciamo 3DMark perché non so che cosa gli serve a 3DMark. Le persone sono fissate con questo cazzo di benchmark, io odio i benchmark, i benchmark non vi dicono niente, sono molto qualitativi i benchmark. Però la gente è fissata con i benchmark. E vabbè. Quindi prendi... Oh caspitina ho sbagliato, oh caspitina ho sbagliato di nuovo. Allora, devo installare anche... Sapete che forse ho perso la mia chiavetta? Sapete che forse, 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 forse ho perso la mia chiavetta? Perché mi sa che l'avevo lasciata attaccata a quell'altro computer. Chi se lo ricorda ogni volta? No, invece me l'ha tirata via. Ok, quindi riavvia sto computer e andiamo qui. Che dobbiamo fare il 3D... Ah, mi fanno male le orecchie ogni volta con sta cazzo di musichina. Questo qui invece devo prenderlo e devo smontargli anche l'altro pannello per avere accesso. Quindi prendiamo questo. Ho detto che gli lascio questo da uno, gli tolgo questo. Quindi questi qua devo rimuoverlo. Quindi rimuovimi questo qui in alto. Questo qui devi rimuovergli anche i cable. No, aspetta, rimuovi questo. Però non riesco a prenderlo, caspita. Devo prendere questo qui, lo rimuovo, questo qui lo rimuovo e cancello questo. Ok, e qua installo gli altri due. Quindi storage, gli metto quello da 4TB. Lo vado a mettere qua e lo chiudo dentro. E qui gli metto quello da 3TB. Quindi 4 e 3,7 e 1,8. Ok, questo lo chiudo. Devo collegare i cavetti. Quindi questo lo metti qua. Questo qui lo attacchi qua. Poi questo qui lo attacchi qua. Questo lo attacchi qua. State attento che non è che ti posso allargare per sempre. Quindi non è che posso chissà quanto. Devo solo vedere se riesce a partire. Ma penso di sì. A meno che non abbia qualcosa di bruciato dovrebbe partire tranquillamente. Lo facciamo partire subito. Intanto premiamo P che lui parte. Dovrebbe partire. Sì. E installiamo le parti di questo computer. Ma se io premo qua. Ok. Perfetto. Questo computer l'abbiamo finito ragazzi. Questo computer è finito così io lo andiamo a portare. Poi installami anche questo. Perfetto. Ok. Live by door. Perfetto. Quindi spegnilo. Poi me lo stacchi. E questo qui è finito. Ragazzi è una bella cosa già questa. Questa è già una bella cosa. Perché lo lasciamo qui. Prendiamo intanto questo. Questo c'ha un case trasparente sopra. Questo è bello. Questo qui è un bel computerino. Bello questo case. Cos'è che dovevo fare? Dovevo. Ah. Dovevo restartare il computer. L'ho già installato. Sì. Devo restartare il computer. Beh. Premo P. Ripremo P. Questo è perfetto. Questo qui. Questo qui deve. Deve giocare a World of Warcraft. Ok. Quindi io farei una cosa. Non è collegato. Vediamo un po'. Che cosa ci serve per World of Warcraft. Perché voglio capire World of Warcraft i requisiti di un gioco del genere. Quindi noi andiamo a collegare tutto e lo accendiamo. Vediamo se ci c'è qualcosa. Qua andiamo che dobbiamo fare. So 3D Mark del cavolo. Tutti fissati con 3D Mark. Allora. World. Devo aggiungere. Aspetta. Mi ha fregato la chiavetta? Aspetta. Non mi frega la chiavetta. Dammi la mia chiavetta. La andiamo a mettere a questo qui. Premiamo così. Ok. E mettiamo la chiavetta qui dietro. Quindi andiamo qui sopra. Aggiungiamo gli Will It Run. Quindi dobbiamo installarlo. Bella questa cosa qui che devi installare le cose. Se vi piacciono i computer. Ragazzi. Intanto terra è un aereo. Se vi piacciono i computer. Io penso che questo gioco qui può essere veramente interessantissimo. Qua come si è messi? Questo si è messi qua. Ammazza quello lì. C'è le casse scassate. Allora. Uno l'avevamo finito. Questo qui l'abbiamo finito. Quindi ci prendiamo i soldi. Oh caspita. Meno male. Meno male ragazzi. Meno male che l'abbiamo fatto questo qui. Nuova parte disponibile. Chi se ne frega. Questo qui. Under attack. Replace. PCU. Under attack vuol dire. Ah no. Ho subito un attacco DOS. PSU sarebbe l'alimentatore e la CPU. Oh io accetto. A me che me frega. Accetta. Accetta che ci servono soldi. Ci servono. E questi due li devo finire. Questo qui 3D Mark. Qual è? Questo. Concordo di definire questo qui. Allora andiamo qui. Will it run. Come si chiamava? L'ha detto. World of Warcraft. Questo. E ce la fa. Forse non ce la fa. Aspetta. Com'è che lo volevi? Recommended. Ok. Devo cambiare. Devo cambiare il processore. E la scheda grafica ragazzi. Devo fare due acquisti. Quindi mi serve un i5-6005. E questa credo di avercela. Allora. L'i5-6005. C'è uno pulsante per andare. Ok. I5-6005. Ok. I5-6005 la devo comprare. Mentre la scheda grafica. La R9-280. 3G. Allora la scheda grafica ce la devo comprare. Sono l'i5-6005. Quindi andiamo qui. E-mail no. Shop. Compriamo. L'i5-6005. Non mi fate dimenticare. Porca di te che è un attimo dimenticarsi. E ovviamente è uno Skylake. I5-6005. Do caspita. 6500. Questo. Hard card. Ok. Lasciamolo qui. Questo qui penso che abbia finito. Sì. Questo è. Devo solo completarlo. Allora. Spegni sto computer del cavolo. Montiamo le parti che ci mancano. Quindi installa questo. Perfetto. Dovrebbe essere a posto. Gli mancava solo questo. Gli mancava. Solo con le vitine. Queste a posto. Lo posso prendere e portare fuori. Ragazzi. Andiamo a collezionare altri due soldi. Purtroppo devo fare l'ordine. Devo farlo così. Collect. Discard. Sono anche aumentato il livello. Sono a livello 4. Ho scaricato delle cose. Click skew. Bello. Per avvitare velocemente. Poi c'è. Va bene. Va bene. Ok. Allora. Discard questo. Che caspita vuole questo? I5-6400. Upgrade 8 giga di RAM. Allora. Io l'I5 lo posso già prendere. E posso anche upgradeare. Così faccio tutto. Tutto in un colpo. Prendo l'I5. Tanto devo fare un altro ordine. Accettiamo questo. L'I5-6400. Lo posso già fare. I5-6400. Quindi questo qui. Glielo aggiungo al carrello. Sono 440 dollari. Siamo almeno in positivo. Questa è già una cosa buona. Non so quanta RAM abbia lui. Quindi non la compra adesso. Non la compra adesso. Perché tanto non so. Devo fare un altro ordine. Dammi questo qui a 30. E compra. Vai. Che caspita è che arrivano i mail su email. Sì ho capito che sono sotto con i soldi. Non ti preoccupare. Allora andiamo. Andiamo qui. Spegniamolo e cambiamogli la scheda ragazzi. Cambiamogli la scheda perché è la cosa più importante. Ammazza che vitone che c'ha. Bloncione proprio che non finisce mai. Rimuoviamo questo. Poi rimuoviamo questo. Rimuoviamo la scheda. E io gli posso mettere la scheda che avevo. Non mi ricordo assolutamente quando l'avevo comprata. Però ce l'ho ragazzi. Ce l'ho. La R9 è questa. Gliela butto dentro. Gliela avvito. Ok. Devo installare qualche cavetto. Sì devo installare questo. Ma poi va bene. Solo il processore devo aspettare. Quindi devo andare a casa. Andiamo a casa. Facciamo qui la solita sosta. Solita sosta che facciamo qui. End of the day. Ok siamo al 22. Qui mi sono arrivate un sacco di parti. Fix questo che caspita vuole. Questo è fixare. Questo è gridare. Allora prendiamo questo intanto. Che è più importante. Perché qui c'ho già i processori. Quindi questo lo butto qua. Io vado prima a questo qui. Gli smonto. Mi devo prima togliere il cavetto. Gli smonto questo. Gli tiro via il processore. Io c'ho un sacco di processori. Questo è lì 3. Io me lo tengo. Tanto se non è rotto. A me che me frega. Gli metto. Qual è che voleva? Il 6500 per il World of Warcraft. Ok. Quindi abbassa. Ovviamente anche questo vorrei fatto 3D Mark. Io non so tutte queste persone che se ne fanno di questi. Di questi benchmark. Io non l'ho mai capito i benchmark. Cioè non è che non l'ho mai capito. So quello che sono. Ma tanto i giochi sono una cosa diversa. Cooling. Gli mettiamo. Gli mettiamo questo che costa di meno. Ok. Installiamo i cavetti. E il PC dovrebbe essere a posto ragazzi. Il PC penso sia a posto. Intanto noi lo accendiamo. E installiamo anche il pezzettino qui laterale. Con il bulloncione enorme. Andiamo qui. Installiamo anche 3D Mark. Perché comunque ho installato anche 3D Mark. Come vedete qui. Più vai avanti più le cose diventano difficili. Perché poi. All'inizio avevi solo un computer. Adesso ne hai 2, 3, 100, 1000. Questo qui cos'è che dovevo fare? Questo dovevo guardare quanto RAM ci aveva. C'è volte parte. Sto coso qui parte anche strano. Vai. Fatti il 3D Benchmark. Dammi la mia chiavetta. Gentilmente. Che ogni volta mi fottete le chiavette. Mi fottete. Andiamo a sistemare questo. Allora. Questo qui devo rimuovere. E devo installare gli 56004 che io già ho. Quindi non ci vuole niente. Peraltro. Prendi i soldi per un i5. E poi non ti prendi un cazzo di dissipatore fatto bene. E un Celeron aveva questo. Aveva il Celeron. Qui quanto c'hai? C'hai 2 giga. Però c'hai 4 porte. Quindi io ti prendo 4. Sì. Instaliamo intanto il processore giusto. Allora. Processore. Li5. 64004. E quindi questo è contento. Te lo chiudo. Non ti metto niente. Perché c'hai 2 giga. Fammi vedere. Qui devo vedere. Questo lo devo ancora fare. Devo vedere se mi conviene comprare tutti i pezzettini piccoli di memoria. O me ne servono 3 di questi. Fanno 60. Se io ne prendo 2 di questi fanno 80. Allora scusa. 40 e 60. No. Ne prendo 3 di questi. Add. Add. E add. Ok. Quindi questi qua li faccio così. Li lascio qui. Non compro subito perché mi avete spiegato che non bisogna comprare subito. Quindi la CPU di questo va bene. E di questo. No. Questo è finito. Allora la posso comprare ragazzi. Qua non è che c'ho qualche altro PC. No. Qui c'ho un PC. Quindi aspettiamo intanto quello li. Questo qui è a posto. Devo solo comprare. Devo fare solo l'ordine. Tu hai finito questo cazzo di coso qui. Ok. Ha finito. Chiudiamo. Io non so che te ne fai. Brava. Hai fatto 2000. Adesso ti danno i punteggi. È per andare a fare in bagno. Allora lasciamo questo qui. Prendiamo questo. Sto impazzendo. Computer da tutte le parti. Non so più di chi erano i pezzi. Dichiaro l'altro. Allora c'è uno che potrei fare collect. Ok. In più mi ha dato delle nuove parti disponibili. La R9 380. Va bene. E questo qui. Cosa che vuole. Aprile di CPU. Ok. Però perché vuoi aprile dare. E io ce l'ho della CPU. Io accetto. Ma che me frega. Una CPU te la butto. Una qualsiasi. Questo qui. Cos'è il problema di questo invece. Replace PSU e CPU. Ok. Allora. Fermati un po'. Io te le faccio replace. Ma con quello che ho in casa. Allora. Per togliere questo. Devo togliere prima tutta la copertina qui. Ok. Svitiamo. Questo è l'alimentatore ragazzi. Un alimentatore in casa ce lo dovrei avere. Quindi non lo compro. Io devo comprare sempre alla fine della giornata. Tanto non è che mi arriva. Mi cambia niente. Per rimuovere questo. Devo rimuovere tutti i cavettini. Porca di quella miseria. Qui per rimuovere tutti i cavettini. Ci vuole tre quarti d'ora. Ci vuole. Quindi rimuove tutti i cavettini. Aspetta. Ma se io mi giro di qua dietro forse è meglio. Questo sarà veramente un casino. Questo è uno di quei lavori che uno non vuole mai fare. Sarebbe meglio non fare. Rimuovi tutto. Rimuovi tutto. Tutti i cavetti. Forse. No. Aspetta. Rimettilo dentro. Forse questo è uno lavoro che non dovrei prendere perché. Basta togliermelo fuori. È uno di quei lavori lunghi e difficili. Che non pagano neanche tanto. Allora posso toglierti l'alimentatore? Sì. Ok. Vediamo se c'è un alimentatore. Io potrei averci un alimentatore. Power supply. Questo qui è da 500. Te ne metto uno da 250. È troppo piccolo. Scusi. Allora vendiamo questo qui che è rotto tanto. Non ce ne facciamo niente. Andiamo a comprarne uno da 500. E caspita. Allora shop. Devo comprare un alimentatore da 500. Quello che costa di meno? Da 500. Il Corel Master costa meno. 55. Ok. E vediamo un po' quali altri problemi ha questo costino qui. La CPU. La CPU si può subito risolvere. Guarda. Se hai un Ryzen 3. Guarda. Rimuovi. Se hai questo Ryzen 3 te lo cambio. Io un Ryzen dovrei avercelo. Un Ryzen 3 ce l'ho. Questo è rotto. Te ne metto uno un po' meglio. Un po' più. Un po' meglio. Un po' più prestante. Non ti preoccupare di me. Fidati. Fidati di me. Ah non l'accetta. No porca miseria. Non l'accetta. Vuole per forza il 1.002. Cioè io ti metto il 1.003 e tu mi rompi solo le scatole. Vabbè. Abbiamo 9 dollari di differenza dai. Compriamo anche sto Ryzen e non se ne parla più. 1.002. Cioè te ne metto uno buono e ti lamenti pure. Ma. La gente è esaurita. Andiamo qui. 30. Fai compra. Ok. Andiamo al prossimo giorno. Ragazzi. Io però vi dico una cosa. Mi fermo qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento. Mi piace. Di iscrivervi al canale. Se è ancora iscritti. Di condividirvi se potete. E noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao. Noi. 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 Grazie a tutti